ciao a tutti benvenuti di nuovo sul mio canale youtube in questo video voglio parlarvi un argomento che mi sta molto a cuore anche per le ragioni per cui per la testata per cui lavoro che è milano città stato che è il discorso dell'autonomia l'autonomia delle città perché ve ne parlo poi lo scoprirete più avanti parto dalla notizia che forse è un po diciamo rimasta un po insordina di qualche settimana fa di cui ne ho parlato appunto nella testata che troverete poi il link dell'articolo appunto nella nella descrizione in basso è la richiesta da parte di roma di proseguire con la riforma costituzionale per dare più poteri e più risorse una riforma che di fatto le concederebbe lo status di città stato o città autonoma come volete come si sol dire che diciamo la equiparebbe più o meno equiparebbe più o meno a le città europee quali vienna hamburgo brema londra non proprio in maniera identica ma molto simile e questo cosa significa che con un grado di autonomia e di risorse maggiori la città può muoversi più liberamente fare più progetti fare più in fretta e soprattutto anche sognare un po più in alto e quindi vi riporto la notizia che era di più o meno della metà di gennaio ovvero quando l'assemblea capitolina ha chiesto all'unanimità che vengano conferite a roma funzioni fondi adeguati al suo status di capitale e il parlamento comunque non si è fatto attendere perché è stato presentato non dire del giorno in senato a prima firma di fratelli italia affinché vengano adottati interventi normativi per riconoscimento della centralità di roma capitale con il conferimento di potere e risorsi speciali si tratta in realtà di un processo di rifare partire un iter che si è interrotto durante il governo draghi di riforma costituzionale l'obiettivo è riuscire a concludere questo percorso entro la fine della legislatura quindi fa circa tre anni tre anni e mezzo e un diciamo che c'è un accordo un consenso bipartisan sia da sinistra che da destra sia in parlamento che nella giunta capitolina in parlamento sia da parte del pd che da fratelli d'italia è anche forse italia le parole più o meno sulle stesse cioè l'impegno è affinché roma possa essere rilanciata con adeguati poteri anche a livello costituzionale e cosa chiede il sindaco gualtieri in particolare chiede l'assegnazione di poteri e competenze e l'assegnazione di risorse per una somma pari tra i 500 milioni e un miliardo di euro per quanto riguarda le competenze le funzioni e le deloghe che chiede appunto per roma troviamo per esempio le materie quali cultura lavori lavori pubblici trasporti servizi della persona porti aeroporti solo per segnare per indicare più importanti con l'obiettivo di arrivare un testo unico su roma capitale che raccolga il quadro normativo spesso diffuso e disseminato in questo caso in questo contesto milano invece non non si fa sentire non alza la voce noi come milano città stato come testata avevamo anche avanzato l'idea di un proprio del processo di percorrere il processo amministrativo per portare per portare milano ad essere una città stato in che modo avevamo prima fatto un referendum anzi un sondaggio sulla nostra sulla nostra testata dove era risultato che più del 90 per cento degli intervistati sarebbe diciamo favorevole a che milano diventi una città stato comunque che abbia un grado maggiore di autonomia e lo stesso la stessa la stessa linea avuta anche un altro sondaggio che era stato fatto dalla ipsos dei pagnoncelli per conto di una lista che sosteneva al sindaco sala in vista della seconda candidatura in questo caso alla domanda sarebbe opportuno che la città di milano venissero attribuiti poteri e competenze speciali come se milano fosse una regione o una provincia autonoma il 63 per cento dei milanesi ha risposto sì quindi sicuramente un numero importante e questo cosa cosa vorrebbe dire per milano diventare città stato poi vi spiego anche quale sarebbe il percorso per milano diventare città stato significherebbe avere più poteri e più risorse e in che modo la lombardia produce il 22 per cento del più nazionale milano ne produce circa la metà circa l'undici e la lombardia riceve 23 miliardi di aiuti dallo stato se milano diventasse città stato in questo caso venisse trasformata in una regione potrebbe ricevere dai 7 agli 11 miliardi che è la quota che adesso è diciamo presa da regione sarebbe destinata la regione lombardia perché tra dai 7 agli 11 miliardi questo dipende da dal fatto che si viene in considerazione la popolazione che quella di milano intesa città metropolitana è un terzo di quella della lombardia oppure come pil che è il 50 per cento quel punto il diciamo le risorse potrebbero essere circa 11 miliardi ma qual è la situazione attuale di milano è che a fronte di circa 40 miliardi versati riceve indietro 450 milioni di euro ovvero circa l'un per cento un'inezia e per dire quanto è la considerazione delle città in italia oltre alle risorse ci sarebbero appunto le competenze che potrebbero consentire una gestione più snella senza troppi livelli burocratici perché adesso milano a sopra appunto la città metropolitana per la regione poi lo stato per l'europa se milano fosse una città regione avrebbe solo sopra solo lo stato con cui dialogare e potrebbe anche dialogare direttamente con l'europa cosa che fa la regione lombardia ma che milano non può fare in alternativa si potrebbe dare seguito al progetto di trasformazione delle ex province città metropolitane fatte dalla legge del rio che non si è compiuta pienamente perché ad esempio il comune di milano avrebbe voluto sciogliersi all'interno della città metropolitana e i singoli 9 municipi sarebbero diventati alla pari degli altri comuni della città metropolitana con un ente unico unico a governare tutto e questo cosa comporta comporta che si potrebbero prolungare le linee metropolitane molto più rapidamente perché un organo acquista sopra solo lo stato potrebbe decidere la progettazione e anche avrebbe risorse più immediate da mettere in campo potrebbero essere costruite altre metropolitane oltre a essere estese nell'interland tenerle aperte 24 ore su 24 avere un arredo urbano adeguato magari uniforme quello del centro città a tutta la città migliorare l'arredo urbano in generale oppure gli aprire i navigli realizzare parcheggi sotterranei per le biciclette per le auto per appunto anche incentivare l'uso del trasporto pubblico ma un altro tema molto caldo in questi periodi è per esempio fare uno stadio nuovo oppure ristrutturare senza problemi San Siro senza dover stare a tentennare per anni e anni si potrebbero fare opere molto in molto meno tempo perché intanto l'area sarebbe più vasta di competenza e per esempio il stadio di San Donato e Rossano avrebbero un iter molto più rapido ma cosa quali sono i passi da fare per poter trasformare Milano in una città stato meglio città regione in base all'ordinamento basterebbe attivare l'articolo 132 della costituzione italiana che adesso lo voglio leggere giusto per non sbagliarmi che prevede nel dettaglio che uno più comuni di un territorio con una popolazione di almeno un milione di abitanti possa fare richiesta tramite referendum di essere trasformato in regione una cosa che forse non stanno neanche Fontana e Sala dato che durante un botta risposta nel corso di un convegno promosso da Salombarda non erano a conoscenza di questa possibilità noi c'eravamo mossi per proporre questo referendum poi è arrivato il covid quindi avevamo già messo in moto la macchina per poi organizzare perché poi al referendum in caso di votazione positiva da parte dei milanesi il consiglio comunale sarebbe stato obbligato a recepire il referendum e fare richiesta poi al Parlamento per poi dare via all'iter costituzionale che è quello che si sta facendo per Roma l'alternativa è che appunto il consiglio comunale decida di procedere con questo iter quindi fare o proporre un referendum per farlo ai cittadini oppure chiedere direttamente che si percorra questo iter costituzionale comunque una strada sicuramente non breve ma ma possibile anche Sala sembrava positivo e concorde nel portare avanti questo processo ma alla fine poi tutto è caduto nell'indicatoio nonostante anche una lista appunto abbiamo visto che lo sosteneva durante le ultime elezioni avesse appunto posto la domanda ai milanesi fosse interessate che Milano avesse maggiore autonomia bene questo è una cosa su cui noi insistiamo costantemente come testata e anche io personalmente perché riguarda comunque il miglioramento delle qualità della vita dei milanesi migliorare le infrastrutture, avere maggiore autonomia, maggiore libertà si pensi ai vincoli o al blocco della soprintendenza per l'allargamento del parco dei giusti quindi si tratta di un piccolo parco milanese, la bocciatura dell'apertura dei navigli da parte del precedente ministro, di un altro governo quindi per avere meno lacciuoli, per avere più risorse e fare prima le opere e farle meglio su un'area più vasta perché Milano comunque di fatto l'influenza di Milano agisce su 5, 6, anche 8 milioni di persone in base ai numeri Ocse e quindi questo dovrebbe essere una cosa da mettere al primo posto in qualsiasi giunta milanese da qui in avanti perché poi tutto il resto sarebbe una conseguenza positiva quindi si potrebbe fare gli stagli in meno tempo e quindi cosa aspetta Milano? se vi è piaciuto questo video come al solito vi chiederò di mettere un like e di iscrivervi al canale e ci vediamo alla prossima